Ieri sul Cryptonomist abbiamo pubblicato questo articolo, di cui vi metto il link in descrizione, che parla di un'analisi di qualche giorno fa di JP Morgan che ritengo molto interessante. Si tratta di un'analisi molto dettagliata, c'è addirittura il link a un report di 28 pagine di JP Morgan con grafici, considerazioni, insomma, e qualche cosa di fatto molto bene, che porta gli analisti di JP Morgan a fare una riflessione abbastanza precisa sulle attuali dinamiche di prezzo. La prima cosa che emerge da questa analisi è un range di oscillazione del prezzo di Bitcoin attuale che va da circa 11.000 dollari a un tetto massimo di 35.000 dollari, quindi in questo momento saremmo più vicini al tetto massimo che non al tetto minimo. Tra l'altro la media tra 11.000 e 35.000 è 23.000 dollari, quindi più o meno quello che stanno immaginando quelli di JP Morgan è che il prezzo di Bitcoin possa oscillare più o meno attorno a questa soglia media, diciamo, di 23.000 dollari. E poi aggiungono una seconda considerazione molto interessante, dicono che il trend di crescita iniziato a novembre potrebbe continuare solo se il prezzo di Bitcoin recuperasse in breve tempo e la soglia dei 40.000 dollari, invece negli ultimi giorni non solo non sta riuscendo a tornare a 40.000 dollari ma sta addirittura scendendo. Loro non dicono nello specifico in quanto tempo dovrebbe essere raggiunta questa cifra per riattivare il trend crescente, quello che però dicono è che nel caso in cui non si riuscisse, l'attuale trend decrescente che è seguito al raggiungimento del massimo storico di 42.000 dollari potrebbe andare avanti fino a fine marzo, quindi potremmo avere davanti due mesi di lateralizzazione o discesa del prezzo nel caso in cui non si riuscisse a recuperare in breve tempo i 40.000 dollari. Poi dicono ancora altre due cose. La prima è che la loro previsione sul lungo termine per il prezzo di Bitcoin rimane quella di 150.000 dollari circa, però dicono che nel caso in cui quest'anno la volatilità ad un certo punto non si dovesse ridurre, perché fino negli ultimi mesi la volatilità del prezzo di Bitcoin è stata elevatissima, ecco che potrebbero esserci problemi a raggiungere questa cifra quest'anno o addirittura a raggiungere i 50.000 dollari. Quindi quello che ci stanno dicendo è che se non recupera in fretta i 40.000 dollari l'attuale fase ascendente, crescente del prezzo è terminata e ci sarà invece, ci sarebbe invece una fase discendente fino a fine marzo, e poi ci dicono che se la volatilità rimarrà molto elevata sarà difficile che nel corso dell'anno si possano raggiungere cifre di 50.000, 100.000, 150.000 dollari. Attenzione però perché non ci dicono se ciò avverrà, ci dicono guardate tenete d'occhio quello che sta succedendo perché ci troviamo di fronte a dei bivi, le cose potrebbero andare in un modo o nell'altro a seconda di come evolvono, quindi non è una previsione su quello che potrebbe accadere, ma sono due scenari differenti, uno in rialzista e uno ribassista, che dipendono da quello che accadrà nei prossimi giorni. Ripeto i punti di riferimento, l'attuale banda di oscillazione di prezzo di bitcoin sarebbe da 11.000 dollari a 35.000 dollari, con la media a circa 23.000 dollari, e il target sul lungo periodo sarebbero circa 150.000 dollari. Aggiungo anche una mia considerazione personale, l'ipotesi di una fase calante, diciamo così, fino a circa fine marzo potrebbe avere un senso proprio se anche se confrontata con quello che accadde nel 2017, perché nel 2017 è vero che furono giunto un primo picco massimo il 5 gennaio, poi scese e poi riprese a salire, ma stava su livelli nettamente inferiori a quelli attuali, quindi in questo momento il livello di prezzo di bitcoin, se confrontato a quello del 2017, sembrerebbe un po' troppo elevato. E più o meno, proprio anche nel 2017, il grande rally del prezzo iniziò tra marzo ed aprile, cioè fino a marzo semplicemente il prezzo recuperò i massimi raggiunti ad inizio gennaio. Quindi possiamo immaginare qualcosa del genere, cioè che il prezzo di bitcoin, il rally di bitcoin, il successivo possibile rally di bitcoin, non inizi fino ad aprile. È un'ipotesi che ha un senso, non è l'unica, potrebbe anche accadere l'esatto contrario, però quello che sostiene JP Morgan, a mio parere, ha un senso. Poi, come al solito, ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti, solo non chiedetemi previsioni sui prezzi perché io non sono in grado di farne. Un saluto, ciao!